Grazie per essere qua al circolo dei lettori. Oggi presentiamo il libro che è uscito recentemente di Rene Fakeris. Noi c'eravamo il senso di fare attivismo e di Torizzoli. Dialogheremo noi tre, Rachele Andreoli, Agostini, Irene Fakeris e io Alice Mammola. Ci piacerebbe anche che ci fosse uno spazio per le domande alla fine ma anche se durante questa discussione ci sono delle domande sono benvenute. Passo subito la parola a Rachele. Allora, dunque io volevo cominciare chiedendoti di parlare del libro partendo proprio da come lo hai scritto e come lo stai presentando perché nelle modalità, nelle scelte che tu hai fatto nello scrivere e adesso anche nel presentare il libro c'è già secondo me molto dei contenuti degli intenti del libro. Quindi una serie di cose. In realtà in questa domanda ce ne sono 20 diverse perché ci sono partendo anche banalmente dalla copertina con una parola molto più grande delle altre, il titolo, una serie di citazioni che hai voluto inserire dentro, il processo che è partito da un questionario, la questione della sensitivity reader che vediamo che cos'è, tutta questa cosa e poi anche appunto come lo stai portando in giro che non è proprio un modo diciamo tradizionale, la scelta di farti accompagnare, tutti i posti in cui stai andando. Quindi in che modo tutte queste scelte centrano con il libro anche proprio. Quando ho finito di rispondere poi vediamo se c'è spazio per le domande e sennò poi andiamo a casa. Intanto buonasera a tutte e tutti e tutta, grazie mille per essere qui. Allora, sì, partendo proprio dalla copertina, cioè senza neanche aprire il libro, io ho voluto che questa parola, questo noi fosse molto grande perché se poi avrete voglia di leggere il libro e se lo avete già letto potete confermare, muove tutto da lì. Io ho voluto scrivere un libro sull'attivismo consapevole del fatto che il mio punto di vista soltanto non sarebbe mai potuto bastare perché parto dall'assunto che l'attivismo si faccia in gruppo, che sia qualcosa da fare assieme ad altre persone e per me non aveva senso raccontare semplicemente i miei anni di attivismo, le mie esperienze, i miei pensieri, le mie riflessioni. Proprio perché non aveva senso fare tutta questa cosa da sola, quando ho deciso di occuparmi di questo tema la prima cosa che ho fatto è stata creare un questionario. Io a marzo, no, ad aprile di quest'anno, ho creato un questionario con l'obiettivo di comprendere la temperatura, cioè ad adesso, come le persone, cosa pensano dell'attivismo in Italia, no? Delle varie dinamiche, eccetera. E ho creato un questionario con domande pensate per target diversi, cioè c'erano delle domande pensate per chi fa attivismo, domande pensate per chi segue persone che fanno attivismo, però ancora non ne fa parte, dico ancora non ne fa parte perché magari vorrebbe cominciare a fare qualcosa, però al momento non ha ancora messo un primo piede dentro a questo mondo. E domande pensate per chi, sì, a grandi linee sa cosa sia l'attivismo, però non ha nessun interesse a farvi parte. Hanno risposto 1150 qualcosa persone. Magari anche qualcuno che qua ha risposto. Potrebbe essere. Magari può essere. Ok, finissima. Beh, secondo te siete voi due. Eh, sì, noi, anche noi. Esatto. Non mi aspettavo assolutamente un numero del genere. Se mi fossi aspettato un numero del genere avrei fatto domande diverse. Nello specifico avrei fatto più domande e risposte chiuse. Mentre invece il questionario era quasi tutto domande e risposte aperte perché ho detto tanto lo compilerà mio padre e mia madre, forse il cane se per sbaglio pigia, no? E invece no. L'hanno compilato un bel po' di persone. Quindi io mi sono trovata a dover leggere mille e passa risposte aperte per ogni domanda e le domande erano un po'. Quindi mi sono presa ovviamente del tempo. Ho provato a cercare di organizzare quelle risposte. Ho provato a capire se ci fossero delle risposte ricorrenti, se ci fossero dei pattern, se venissero fuori dei bias o cose del genere. E poi dopo che le ho lette tutte mi sono fatta i miei bei file Excel. Ho passato un mese che sembravo la versione italiana di John Nash. Fra un po' scrivevo i numeri sulle finestre. Dopo che ho fatto tutta questa cosa mi sono resa conto che non sarebbe stato sufficiente. Cioè è stato molto bello leggere quelle parole ma io avevo bisogno di un confronto. Cioè avevo bisogno di fare altre domande. Quindi ho creato dei gruppi di confronto con persone che facevano parte dei, non del primo cluster, degli altri due. Quindi comunque persone che al momento non stanno facendo attivismo. Tra queste c'erano persone che vorrebbero avvicinarsi e persone che invece non hanno interesse. E ho provato a chiedere loro che cosa stesse frenando l'ingresso o che cosa le avesse portate a dire non è qualcosa che mi interessa. E sono venute fuori delle risposte interessanti che poi ovviamente nel libro sono affrontate e che mi hanno portato a fare molte riflessioni e ci hanno portato a fare molte riflessioni perché poi io di queste risposte ne ho parlato assieme a chi invece l'attivismo lo fa. Perché una volta finiti questi gruppi di confronto io ho fatto delle lunghe interviste uno a uno con persone che invece fanno attivismo. Sia persone che fanno attivismo in una maniera simile alla mia, sia persone che fanno attivismo invece in modi molto diversi. Sia persone che fanno attivismo per quanto riguarda i temi di cui mi occupo, sia persone che fanno attivismo rispetto ad altri temi. Una cosa che ho avuto chiara dall'inizio è che non avrei voluto limitarmi a parlare di femminismo. Che era in realtà quello che invece si aspettavano tutte le persone per ovvie ragioni, formazione professionale eccetera. Ma quando si parla di attivismo, cioè io in questo libro parlo di attivismo a 360 gradi, cioè si può fare attivismo rispetto a molte questioni. Se ti occupi di crisi climatica, cambiamento climatico, stai facendo attivismo. Se sei antispecista e ti batti per questo, stai facendo attivismo. Alla fine ho visto che non cambia niente. Cioè può cambiare il tema, ma siccome sono le persone a fare attivismo e sono le persone a entrare in contatto e sono le persone a fare gruppo e sono le persone a dover gestire una collettività, le dinamiche che scattano sono sempre le stesse, indipendentemente dal tema che si sta affrontando. E poi magari viene anche molto da riflettere sul fatto che le cause alla fine, come diciamo spesso, sono poi tutte collegate. La famosa intersezionalità è tutto collegato, tutte le battaglie in qualche modo si incontrano. Certo, ci sono persone che magari fanno attivismo e si fermano a un tema soltanto, ci sono persone che fanno attivismo e toccano più temi. Perché banalmente se ti occupi di femminismo e quindi di sfruttamento del corpo femminile, dopo un attimo metti un piede nell'antispecismo perché stiamo parlando della stessa cosa, ma come se ti occupi di la condizione della donna e ne parli come di femminismo e poi vai a vedere i paesi dove la crisi climatica sta colpendo di più e quali sono le soggettività più colpite e scopri che stiamo parlando delle stesse persone, delle stesse categorie marginalizzate. Quindi sì, con queste persone io ho spoilerato qualche risposta che mi era stata data nei gruppi di confronto perché ad esempio un tema che era venuto fuori era, magari avremo modo di affrontarlo dopo, però giusto per darvi un antipasto. Non faccio attivismo anche se mi piacerebbe perché non mi sento sufficientemente pronta, non mi sento abbastanza. Poi aggiungete quello che volete ma non mi sento abbastanza preparata, non sento di aver studiato abbastanza, letto abbastanza, confrontato abbastanza eccetera eccetera. Ovviamente io ho preso queste risposte e le ho proposte alle persone che ho intervistato e che già fanno attivismo perché è evidente che se c'è una sorta di barriera all'ingresso di un mondo chi è già dentro deve occuparsi di smantellare quella barriera perché se c'è è perché qualcuno l'ha creata. Quindi sono state delle conversazioni interessanti come potete immaginare molto leggere. Una volta ascoltate tutte queste persone, poi mi sono presa un mese per scrivere il libro. Sostanzialmente il libro si era scritto da solo a quel punto perché dovevo soltanto mettere un po' di ordine e aiutare le persone attraverso un percorso a cercare di capire e comprendere tutti i punti che ho trattato. Ovviamente questo non è un romanzo né è un saggio prettamente tecnico, si parla di relazioni, si parla di persone, si parla di dinamiche con tutto il rischio di dire delle cose che possano in qualche modo far male, che possano ferire o con il rischio di dimenticarsi delle soggettività. Fare un elenco di persone, fare un elenco di temi di cui si può occupare l'attivismo e dimenticarsene alcuni. Io due minuti fa quando parlavo ad esempio non ho parlato di antirazzismo, che invece è un altro tema centrale, soprattutto si parla di femminismo intersezionale. Allora io ho vissuto, non che sia una novità per me, però ho vissuto nell'ansia di fare del male, cioè veramente di dimenticarmi qualcuno e quindi di creare un danno, di usare parole sbagliate, ma cose banali tipo è meglio non parlare, non dire egocentrico se stai parlando, se stai cercando di dire che è qualcosa di negativo, è meglio dire ego riferito perché egocentrico invece ha un taglio che potrebbe essere anche di salute mentale e quindi rischi di cose del genere, che possono essere piccolezze, ma in realtà se le leggi una persona che quella realtà la vive sulla propria pelle non è una piccolezza, fa male. Così come c'è un pezzo del libro quasi all'inizio dove io racconto del perché abbia deciso di non utilizzare lo schwa come simbolo non con poche remore e io mi ero limitata a dire che non utilizzo lo schwa in questo caso perché i sistemi di lettura automatica che vengono utilizzati ad esempio dalle persone cieche o ipovedenti non riconoscono lo schwa e in questa frase mi stavo dimenticando che non è che non serve solo a quelle persone, ad esempio ci sono persone che hanno altri tipi di disabilità banalmente nemicranie croniche che non ti permettono di leggere, no? Cioè c'è il rischio di dimenticarsi delle persone, il che significa che vanno elencate tutte? No, ma si possono girare le frasi di modo che non ci siano persone da escludere. Io non potevo fare questo lavoro da sola, non perché io non ne sia in grado, io so modificare tutti gli errori che vedo, ma io non vedo tutti gli errori e quindi avevo bisogno che ci fosse un'altra persona a fare questo lavoro assieme a me. Questa persona è Bianca Maria Furci che poi ha scritto anche la postfazione di questo libro sotto forma di poesia che ha fatto da sensitivity reader che è esattamente questo ruolo, cioè la sensitivity reader fa questo. È una figura che in Italia non conosce praticamente nessuna persona, mentre invece in America, comunque in Inghilterra, è già molto usata quando si scrivono i libri. Si sa perfettamente che bisogna avere un editor che controlla che tu abbia messo i tempi verbali corretti, abbia scritto la frase come deve essere scritta. e poi c'è un sensitivity reader che legge il libro non per correggerti la grammatica, la sintassi o l'ortografia, ma per dirti guarda che qui rischi di far male. E quindi è stato un lavoro interessante. È stato un lavoro interessante anche perché sostanzialmente ho pagato una persona per farmi dire dove stavo sbagliando, che non è semplice da fare perché significa partire proprio dal presupposto che io sia fallibile. Cioè ti sto chiedendo di farmi vedere i miei errori. Sto partendo quindi dal presupposto che io stia sbagliando. Non semplice, però sicuramente molto utile. Per ultimo, il tipo di presentazioni che ho scelto di fare. Io ho pensato a questa cosa mesi e mesi fa e mi è stato subito chiaro che per quanto possibile avrei voluto sicuramente sempre accanto a una persona che un po' bazzicasse questo ambito, ma soprattutto per quanto possibile non avrei mai voluto una persona sola sul palco. Proprio perché ho un libro in cui in copertina c'è un noi gigante, volevo che questa pluralità, questa collettività si manifestasse anche sul palco. Insomma fosse visibile anche senza, anche ai microfoni spenti, il fatto che siamo tre persone su un palco per parlare di un libro mandò un messaggio. Mi piaceva che venisse mandato questo messaggio. Beh, questa dimensione plurale è uno degli aspetti che mi ha più colpito. Tra l'altro anch'io ho partecipato al questionario e proprio nel rispondere mi sono venute tantissime riflessioni. Personalmente, per esempio, anche io all'inizio avvicinandomi al mondo dell'attivismo, poi non so, forse non mi definirei neanche un'attivista, ma più una divulgatrice, però in qualche modo ogni persona in qualche modo porta un messaggio con sé, anche proprio fisicamente, come dicevamo adesso, essere qua sul palco. Diciamo che la cosa che ho trovato molto interessante nel mondo del web anche, quindi di internet e dell'accessibilità, seppur con tutti i suoi limiti, ha permesso a tantissime persone di iniziare a parlare, a prendere parola. Allo stesso tempo c'è anche una grande paura nel prendere parola, io spesso, anche confrontandomi con altri attivisti, ho notato spesso una paura anche rispetto a quel mondo che a volte è un po' un mondo al massacro. Potremmo poi infatti collegarci a un paio di temi che affronti qua nel libro, del colline e del call out, ad esempio, che è un tema secondo me molto attuale e che in qualche modo mette proprio delle distanze, ma invece andrebbe un po' affrontato, ecco. Però ecco, volevo un attimo chiederti, la dimensione plurale quindi della coralità, vuoi dirci qualcosa su questo collettività, su questo essere coro? Perché appunto là dove magari una persona non riesce ad arrivare, magari c'è qualcun altro che può occupare quello spazio, che può parlare, e quindi anche l'importanza a volte di fare spazio e essere in ascolto. Sì, io in questo libro sono partita dalla definizione di attivista, perché se è vero che poi una persona può fare attivismo in modi diversi, è anche vero che una definizione esiste, perché se no tutto è attivismo e se tutto è attivismo, niente è attivismo. Un attivista è una persona che si attiva in gruppo per raggiungere un obiettivo comune. Questa è la definizione. È una definizione che sulla Treccani, in generale comunque da altre parti, è ferma a un tempo in cui non c'era internet. E quindi io mi sono chiesta, ma questa definizione è comunque valida? La mia risposta è che sì. Questa definizione è comunque valida. E adesso andiamo a vedere perché. L'attivista è una persona che si attiva in gruppo per raggiungere un obiettivo comune, il che significa che per fare attivismo, per parlare di attivismo, abbiamo bisogno di due condizioni necessarie. La prima... è che ci sia un obiettivo comune. Cioè, chi fa attivismo non lo fa per il proprio tornaconto personale. Lo fa per raggiungere un obiettivo. Qual è questo obiettivo? Il bene collettivo. Io faccio quello che faccio nella speranza che le persone stiano meglio. Se non bene, meglio. Poi, evidentemente, io mi adopero per migliorare il mondo, io vivo nel mondo e quindi è chiaro che poi ne traggo beneficio anche io. Ma non lo faccio per quello. Perché ci sono moltissime volte in cui per raggiungere quel bene collettivo devi passare per una serie di strade scomode. E lì puoi decidere cosa fare, nel senso che puoi anche andartene da quella strada scomoda e prendere un'altra strada molto più comoda, ma non stai più andando nella direzione del bene collettivo. Quindi, come dire, devi stare un po' scomoda adesso per riuscire ad essere più comoda assieme ad altre persone più avanti. Oppure puoi essere molto comoda tu ora fregandotene altamente di cosa succede fuori dalla casa tua. Quindi, la prima cosa è che ci deve essere un noi nell'obiettivo. Io faccio le cose per un noi, non per me. Al centro non c'è l'io, c'è questo noi. Avere un noi nell'obiettivo è necessario, ma non è sufficiente. Perché io questo obiettivo devo raggiungerlo assieme ad altre persone. La definizione è una persona che si attiva in gruppo. Poi Treccani parla di sindacati o partiti politici perché è una definizione degli anni 70. Però rimane la dimensione gruppale. Cioè, non lo fai da solo. Cioè, non basta che ci sia un noi nell'obiettivo, ci deve essere un noi anche nel processo. Perché? Perché io da sola non posso sapere cosa sia bene per la collettività. Devo raggiungere il bene collettivo. Ok, ma qual è il bene collettivo? Io devo parlare con le altre persone per capire qual è il futuro migliore per noi. Tutti noi. E poi raggiungerlo assieme. Quindi ciò noi nell'obiettivo, ciò noi nel processo. Questa cosa vale anche se stiamo parlando di attivismo online. Perché essere su internet ed essere da sole sono due cose diverse. Ci sono moltissimi collettivi che si incontrano online. Perché magari le persone abitano in posti diversi dell'Italia, magari anche fuori. E si organizzano insieme per fare delle cose. Quelle sono persone che hanno un noi nell'obiettivo e che hanno un noi nel processo. Quindi quello è a tutti gli effetti attivismo. È attivismo digitale delle volte. Delle volte poi invece diventa anche un attivismo fisico. Moltissime delle piazze nelle quali andiamo per manifestare sono organizzate online. E se non ci fossero delle persone che online si mettono d'accordo, noi non avremmo quelle piazze dove andare a manifestare. Questo mi ha portata a vedere una differenza tra persone che invece utilizzano i social in una maniera sicuramente utile, ma che non si può definire attivismo. E dico che non si può definire attivismo non perché voglia fare butta fuori, ma perché se partiamo da quella definizione e allora tutto ciò che non è quella definizione non rientra nell'attivismo. Ci sono moltissime persone che hanno sicuramente un noi nell'obiettivo. Cioè fanno le cose pensando a dai, miglioriamo la vita delle persone. Ma lo fanno in solitaria. Senza confrontarsi con nessuna persona. Sono figure molto utili. Si chiamano divulgatori, divulgatrici, divulgator. Cioè sono persone che raccontano alcune cose. Il mio obiettivo è aumentare la sensibilità e la consapevolezza delle persone rispetto ad alcuni temi. Ho una piattaforma, ho delle persone che mi seguono anziché parlare di cosa ho mangiato oggi a pranzo o inoltre a raccontare cosa ho mangiato oggi a pranzo. Pongo anche una questione. Ottimo. Non è attivismo per il semplice fatto che manca tutta la dimensione di gruppo nella preparazione che è centrale perché è un po' il lavoro che è stato fatto tra me e Bianca per capirci. Io avrei potuto dire cose molto interessanti anche senza confrontarmi con le persone ma forse avrei fatto anche degli scivoloni. Cioè probabilmente degli scivoloni ci sono lo stesso perché comunque c'eravamo io e c'era Bianca Maria e c'era la editor va bene ma ogni volta che aggiungi una testa pensante diminuiscono le probabilità che tu dica qualcosa di problematico perché è più facile che qualche personaggio lo faccia notare prima di fare pubblica o prima di salire su un palco e dire delle cose online e offline è la stessa identica cosa. Tra l'altro questa cosa per me è ipervisibile. Cioè io mi rendo molto spesso conto di quando un contenuto che sia fruito attraverso uno smartphone o che sia ascoltato da un palco è un contenuto che è stato pensato da una testa sola perché vedi tutte le mancanze faccio un esempio non perché io voglia prendermela con una persona in particolare ma perché è un esempio che secondo me tutte le persone qui conoscono o comunque hanno un ricordo Chiara Ferragni Sanremo 2023 che legge la lettera la lettera che lei scrive a se stessa piccola Chiara lei dice delle cose in quella lettera che mi fanno pensare che sia in buona fede nel suo avere un noi nell'obiettivo cioè che ci abbia provato a dire delle cose sperando di lasciare un messaggio di migliorare anche di poco la vita di qualcuna nello specifico però io io ho ascoltato quella lettera e ho detto finito di leggere la lettera Amadeus ha fatto un siparietto molto imbarazzante dove ci ha sottolineato ci ha tenuto a sottolineare e hai visto che brava e l'ha scritta tutta da sola l'ha proprio detto poi se ci avanza un'altra ora parliamo parliamo della misoginia di questa frase però vabbè dopo ma quando lui ha detto questa cosa io ho pensato e si vede si vede che l'hai scritta tutta da sola ma è un problema che tu vada in televisione in prima serata nel programma più seguito d'Italia a dire una cosa che non hai condiviso cioè è un problema nella misura in cui tu cerchi di venderla come una cosa che invece è appunto ha un certo intento se tu arrivi e dici boh io voglio parlare di me ok chi vuole ti ascolta chi non vuole non ti ascolta ma se tu vai e dici io sto parlando per tutte le donne e in realtà parli di te è quello il problema dell'avere un noi nell'obiettivo sicuramente ma nessun noi nel processo quella lettera naturalmente non sarà stata scritta da sola ma non perché non ne sia capace ma perché non è deficiente è evidente che altre persone del suo entourage hanno letto quella lettera prima di andare in prima serata qual è il problema che nessuna di quelle persone è competente rispetto al contenuto di quella lettera Chiara Ferragni la sera prima o la stessa sera non mi ricordo era salita sul palco assieme a tutte le donne di donne in rete contro la violenza sarebbe bastato farla leggere a una sola di quelle donne anche una sola di loro le avrebbe detto ok Chiara no no qui c'è un problema questo lo riscriviamo perché era davvero così manifesto tutta quella soggettività ecco ovviamente più hai un pubblico ampio più sei chiamata davvero noi nel processo perché un conto è se io faccio un discorso al bar assieme agli amici e dico delle cose problematiche vabbè le ascoltano in cinque sono comunque problematiche sarebbe stato meglio evitare però le ascoltate in cinque un conto è andare in prima serata a Sanremo e leggere una cosa che sostanzialmente continuava a ripetere alla piccola Chiara vedrai che ce la farai perché se vuoi puoi raccontare una dinamica tossica perché la dinamica del se vuoi puoi è tossica e immagino quante donne ci siano rimaste molto bene a pensare che siccome loro non ce l'hanno fatta evidentemente non l'hanno voluto abbastanza scema io ok e pensa ma l'intento era estremamente positivo però quando ti manca il noi nel processo è facilissimo scivolare è veramente facile sapere che la collettività ti aiuta a generare un output più utile e meno problematico è peraltro forse l'unica buona ragione per avere a che fare con la collettività dico questa cosa perché è evidente che lavorare in gruppo è una rottura di scatole infinita cioè quando lavori da sola devi mediare solo con te ok penso questa cosa tutti d'accordo perfetto vai cioè nessuno ti dirà no guarda questa è una cavolata il problema è che se stai pensando a te se stai facendo non lo so se stai cercando di aumentare i tuoi follower se stai cercando di farti notare se stai cercando di entrare in politica qualunque cosa va bene cioè puoi tranquillamente confrontarti con la tua immagine riflessa allo specchio d'accordo ma se tu stai dicendo che hai come obiettivo il noi e no non puoi però pensare che il tuo io sia sufficiente per arrivare a un bene collettivo questo però significa che devi allenarti a fare una cosa per nulla semplice cioè devi allenarti ad avere un'idea che secondo te è un'idea bellissima e poi girarti guardare le persone che hai di fianco e dire ok prova a demolirla è perché è così che passa il vaglio però poi c'è anche un'altra parte in realtà tornando al discorso digitale una parte invece che magari può essere un po' più oscura di questa cosa qui parlando della necessità cioè proprio dell'esigenza di confrontarsi tu fai anche la distinzione molto importante fra conflitto e scontro e quindi il conflitto non deve essere per forza uno scontro ci si può confrontare senza attaccare la persona ma l'idea eccetera però sui social quello che avviene che invece è magari un po' più facile da fare in un contesto fisico è chiudere la porta facciamo il conflitto fra di noi che siamo dentro questa realtà e poi quando andiamo là fuori e abbiamo l'obiettivo poi siamo un fronte compatto che non vuol dire essere cioè falsi ma vuol dire appunto mettere davanti al conflitto il nostro obiettivo comune sui social è un po' più difficile fare questa roba qua perché ci sono poi delle parti più oscure e ci sono le persone che ti vengono a dire tutta una serie di cose e lì subentra anche direi che magari ottobre è il mezzo della salute mentale tra l'altro subentra il discorso della salute mentale nell'attivismo e l'esigenza quindi di cui tu parli che è una parte secondo me fondamentale di prendersi cura gli uni degli altri le une delle altre l'un dell'altr quando si fa attivismo quindi anche magari parlare un po' di questa cosa qua ci sono due punti c'è tutto il tema del conflitto e poi c'è il bellissimo tema della cura che in realtà parla molto cioè se parli di conflitto in un certo modo stai anche parlando di cura c'è tutto un pezzo del libro dove io mi soffermo sulla differenza tra il conflitto e lo scontro perché ovviamente quando lavori per un obiettivo comune assieme a una collettività non puoi immaginarti che vada tutto liscio se va tutto liscio c'è qualcosa che non sta funzionando perché le persone hanno idee diverse punti di vista diversi sguardi differenti se siamo tutte d'accordo è successo qualcosa nel processo che va risolto io per parlare di conflitto nel libro parlo di champagne voi direte ma che c'è azzecca sta roba arrivo a spiegare praticamente quando stavano inventando lo champagne cominciavano a imbottigliarlo ma a metterlo nelle cantine quando dopo un po' tornavano nelle cantine trovavano i tappi saltati e tutto lo champagne per terra perché sta cosa cioè non succedeva con il vino rosso con il vino bianco e con lo champagne succede questa cosa perché lo champagne ha molte più atmosfere molte più bollicine rispetto ad altri tipi di vino tutte queste bollicine creano volume e quindi a un certo punto il tappo salta è fisica di base e quindi il vino era tutto per terra allora hanno detto ah vedi ok il problema è che salta il tappo allora noi cosa facciamo mettiamo una gabbietta per assicurare il tappo se fate mente locale pensate a una bottiglia di champagne hanno sempre la gabbietta da ok per questa ragione perché altrimenti salta il tappo quindi dicono perfetto siamo a posto adesso le abbiamo messo la gabbietta mettevano il vino mettevano il tappo mettevano la gabbietta la mettevano in cantina tornavano in cantina il tappo teneva in compenso si era rotta la bottiglia perché comunque sono troppe atmosfere e quindi hanno detto vabbè forse noi lo champagne lo dobbiamo bere e cioè non sta cosa facciamo finché una persona è arrivata a dire scusate ma se il problema è che la bottiglia si rompe perché non facciamo delle bottiglie più spesse infatti se ci pensate le bottiglie di champagne pesano di più perché il vetro è più spesso quindi facendo le bottiglie con il vetro più spesso e assicurando il tappo con la gabbietta noi oggi beviamo lo champagne che ci azzecca questo con il conflitto il conflitto e tutto ciò che ci sta dentro sono le atmosfere di quel vino che sono è ciò che rende buono lo champagne se gli togli le bollicine stai bevendo un vino fermo è un'altra cosa è un buono però è un'altra cosa se vuoi lo champagne ci sono le bollicine però tu non festeggi con il vino fermo tu festeggi con il champagne che significa che evidentemente è buono quello che accade normalmente è che le persone rifiutano il conflitto perché sanno perfettamente che quella bottiglia cioè la relazione che contiene quel conflitto non è spessa abbastanza e se cominciamo a confliggere questa bottiglia si spacca e quindi in tutti i contesti e l'attivismo non fa eccezione si trova la soluzione povera e miope di diminuire il numero di atmosfere e quindi no vabbè di questa cosa non te ne parlo mi ha dato fastidio questa cosa che hai fatto però vabbè ci passo sopra tranne che non è vero che ci passiamo sopra le cose le cose poi ritornano dopo anni basta una cavolata e si rompe una relazione e noi ci chiediamo come mai ma come è stato possibile così dal niente no non così dal niente sono anni che cerchi di non mettere nemmeno una bollicina a un certo punto appena ti scappa la prima ok noi lavoriamo così noi lavoriamo a cercare di diminuire le probabilità di confliggere perché il problema è che le nostre bottiglie sono troppo sottili cioè noi cerchiamo di confliggere poco perché sappiamo che quelle relazioni non terrebbero anziché lavorare per inspessire il vetro se io lavoro sulla relazione poi quella relazione è in grado di contenere tutto alcune relazioni sono così cioè io posso dire di pochissime persone ma posso dirlo che non importa quello che accadrà io so che io e questa persona se moriamo lo stesso giorno abbiamo le tombe vicine ok non importa cosa può accadere ma perché perché lo abbiamo deciso cioè queste cose non accadono per magia lo abbiamo deciso ogni giorno lavoriamo su quella relazione e quella relazione ogni giorno è in grado di contenere sempre più atmosfere ma siccome per arrivare a un obiettivo comune devi passare dal conflitto perché per arrivare a un obiettivo comune devi farlo assieme alle altre persone questo vuol dire confliggere che non vuol dire scontrarsi in uno scontro c'è sempre uno che vince e uno che perde del conflitto ci si mette lì e si cerca di trovare una terza via che vada bene a entrambe le persone quella bottiglia non si inspessisce da sola il problema è che se noi partiamo dal presupposto che sia più semplice in effetti lo è nel breve periodo lo è non confliggere non inserire quelle atmosfere non ci occuperemo mai di quella relazione noi abbiamo un obiettivo l'obiettivo è dobbiamo saltare quell'asticella funziona così banalmente nello sport quando devi saltare non è che a un certo punto dicono vabbè dai adesso la fermiamo qui oppure non ce la fai dai la abbassiamo un pochino non si abbassa l'asticella a livello della competenza del momento della persona si allenano i muscoli così che tu possa saltare asticelle più alte funziona così mentre invece noi giochiamo al ribasso giochiamo all'impoverimento abbassiamo l'asticella per terra perché abbiamo i muscoli relazionali completamente atrofizzati ovviamente non è semplice avere certe conversazioni ed è la ragione per cui serve uno spazio dedicato che sia uno spazio intimo e che sia uno spazio privato in questo i collettivi hanno moltissimo da insegnare nei collettivi quello che succede è non so se abbiate mai avuto modo di frequentare un collettivo ma sostanzialmente ci si tira le sedie si sta ore a discutere dei temi e ci si tira delle sedie ogni tanto cioè si confligge ma anche con veemenza ma poi quando si va in piazza quella roba lì non è che non si vede non si deve vedere ma non si deve vedere perché siamo ipocriti non si deve vedere perché dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco non si deve vedere perché i conflitti sono un io che incontra un altro io ma in piazza ci deve andare il noi chi se ne frega poi continueremo a confliggere bene ma ci vuole un fronte comune ci vuole questo noi è più importante il noi quando si parla di attivismo offline è più semplice fare questa cosa perché ci sono gli spazi dedicati per il conflitto e poi c'è la piazza e in piazza si va compatte i social i social sono già la piazza questo è il vero problema non è che l'attivismo online non funziona è che dovremmo cercare di comprendere il fatto che le dinamiche online e offline sono le stesse quindi dobbiamo preservare gli spazi per il conflitto anche se stiamo confliggendo online perché io posso avere posso doverti dire una cosa anche se abitiamo a 600 chilometri di distanza ma non è che devo fare una storia e taggarti boh posso alzare la cornetta posso scriverti privatamente non posso devo perché è così che funziona perché altrimenti se uno mette la storia ti interessa di più che tutti vedano che tu stai e di nuovo c'è il tuo io più che ma sì ma c'è una delle ragioni anzi la principale ragione per cui le persone che non fanno attivismo non hanno non hanno interesse a entrare a far parte di questo mondo quindi non il cluster mi piacerebbe ma ancora non sento che sia arrivato il mio momento ma non lo farò mai è questo il principale motivo che a me è stato detto da diverse persone è io non voglio avere niente a che fare con quei teatrini io non la voglio fare quella roba lì perché perché ho finito le medie da un po' perché il mercoledì posso anche non vestirmi di rosa cioè per una serie di ragioni e quindi non voglio fare quella cosa lì e il problema è che queste dinamiche interpersonali che sono trasversali in tutti i contesti poi offuscano quello che è il reale obiettivo poi succedono delle cose ridicole non c'è un altro modo per definirle e lo dico essendoci passata cioè non è che lo dico dall'alto del no 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 lo dico avendo fatto queste robe qua poco veramente poco ci tengo a dire questa cosa però è successo anche a me per per formatività per far vedere che io ero più brava di quell'altra persona per mille ragioni diverse ma poi arrivano queste cose del che o fanno direttamente il nome oppure non fanno il nome però sostanzialmente è chiaro a tutti di chi stai parlando e sembra l'indovina chi dell'attivismo vedi la storia al cappello sì è Robert è evidente che stai parlando di lui lo sappiamo cioè tu puoi anche non averlo nominato ma è evidente ora tutte queste dinamiche funzionano su qualunque tema vogliamo parlare di femminismo vogliamo parlare di antirazzismo vogliamo parlare di abilismo vogliamo parlare di ecoattivismo vogliamo parlare di antispecismo non cambia niente non cambia niente sono sempre le stesse identiche dinamiche e sono date uno da una poca conoscenza del mezzo non importa che siamo nati che già c'erano internet o che già c'erano i social nessuno ci ha detto come usarli e questo è un problema e poi da una società che sostanzialmente continua a dirci l'importante è che noi ci facciamo ricordare noi come singoli individui non come collettività e quindi è molto facile cadere in dinamiche performative sostanzialmente io dico una cosa senza pensare alla collettività ma semplicemente perché voglio far vedere che io ne so che io ne so di più che io sono più brava che io ho l'attivismo più lungo tutta una serie di cose e quelli sono momenti in cui non solo non c'è nessun noi nel processo ovviamente perché perché io vorrei vorrei ai tempi magari aver avuto un'amica di fianco a dirmi la puoi piantare ti stai rendendo ridicola lo dico per il tuo bene la puoi smettere avrei voluto tanto ma non c'era perché non c'era nessun noi nel processo ma quando fai un contenuto del genere quando proponi un contenuto del genere online offline che ha l'obiettivo di far vedere che tu sei meglio non c'è nessun noi neanche nell'obiettivo l'obiettivo sei tu l'obiettivo è l'io e ogni volta che l'obiettivo è l'io tu non stai facendo attivismo mi è piaciuta questa metafora che hai portato della bottiglia proprio esemplificativa e mi è venuta in mente un'altra metafora parlando di coro proprio il coro che canta cioè nel senso che quando si canta in coro bisogna intonarsi bisogna ascoltare anche chi è di fianco e e in questo processo qui cioè l'obiettivo appunto non è solo la performance ma proprio il processo la costruzione di di una canzone ad esempio e quindi volevo aggiungere questa metafora che secondo me comprende molto bene il noi sorrido perché per scrivere questo libro ho intervistato anche il direttore di un coro perché volevo che mi spiegasse questa cosa sì perché il coro è proprio un incontro di anime che in qualche modo stanno facendo e hanno davvero bisogno di equilibrarsi perché se uno e il coro ti aiuta proprio quindi anche in un certo senso a confliggere perché magari c'è la persona che vuole un po' emergere e quindi magari il coro in qualche modo ti riporta a una dimensione del noi che però io anche riflettevo anche leggendo ho riflettuto molto e pensavo c'è stato un momento in cui ero più giovane e pensavo che fare attivismo volesse dire anche in un certo senso azzerare l'io in realtà non è da azzerare propriamente l'io ma è di perché altrimenti se uno veramente azzera completamente la propria persona non ha più non pensa di avere un contributo da dare quindi in realtà non è completamente sparire come persona ma è dire io valgo nella misura in cui contribuisco a questa cosa e quindi è reputare il proprio io importante abbastanza da inserirlo nel noi e farlo poi cantare insieme a tutti gli altri e farlo ogni persona è fondamentale anche per esempio non so per non in qualche modo nel coro magari se uno cala ci si può bisogna tutti sostenere e quindi cercare veramente insieme nell'intento di e poi nel coro ci sono voci diverse un'altra cosa magari adesso siamo un po' di corso perché sta per finire volevamo anche lasciare un po' di spazio per le domande però anche la questione di dire non dobbiamo per forza parlare all'inizio della strada e di camminare non è obbligatorio per arrivare al punto comune fare la stessa strada cioè si può arrivare con strade diverse alla stessa cosa avere l'obiettivo comune il viaggiare insieme non è dato dal fare la stessa strada ma dal ricordarsi e ogni tanto sentirsi e dire come sta andando il tuo viaggio quello è viaggiare insieme non è per forza essere fisicamente sulla stessa strada anzi spesso l'attivismo cioè trae giovamento dal diversificare le modalità anche no? sì il tema delle modalità diverse è un tema centrale perché c'è anche un po' questo dibattito del ah tu sei troppo radicale no tu sei troppo l'asseffert no questa è una cosa che hanno in realtà risolto molto tempo fa persone molto più importanti di noi quando quando intervistavano ai tempi Malcolm X chiedendogli che cosa ne pensasse di Martin Luther King e della sua modalità sicuramente più democratica di fare attivismo di portare le istanze mentre quella di Malcolm X era sicuramente più radicale Malcolm X rispondeva dicendo ma io sto facendo un favore al al dottor King ed è vero perché chi è al potere normalmente non vuole sentire dissensi di nessun tipo e il minimo al alla minima alzata di voce viene già bollato come radicale cioè pensiamo soltanto alla crisi climatica ci sono adesso le ecoattiviste e gli ecoattivisti che lanciano vernice lavabile sui plexiglass davanti alle opere d'arte e vengono definiti radicali troppo forti questi sono gesti che non vanno fatti la storia insegna e la storia tende a ripetersi che fra un po' arriveranno degli ecoattivisti e delle ecoattiviste che ricorderanno al potere cosa significhi radicale e a quel punto chi è al potere parlerà con chi adesso sta lanciando vernice lavabile è quello che è già stato detto chi era al potere ha iniziato e ha dovuto cominciare a dialogare con Martin Luther King perché si è reso conto che l'alternativa sarebbe stata parlare con Malcolm X e sarebbe stato molto meno divertente e Malcolm X diceva io faccio questo tipo di attivismo il mio attivismo è così radicale perché so che non parleranno mai con me ma gli faccio capire dove si può arrivare almeno parlano con lui dopo perché altrimenti non parleranno mai con nessuno è così radicale